Via. Dalle lettere duterane di Pierpaolo Pasolini, un corsaro del nostro tempo. Ebbene, in tal senso io sono come un negro in una società razzista che ha voluto gratificarsi di uno spirito tollerante. Cioè sono un tollerato. La tolleranza, sappilo, è solo e sempre puramente nominale. Non conosco un solo esempio o caso di tolleranza reale. E questo perché una tolleranza reale sarebbe una contraddizione in termini. Il fatto che si tolleri qualcuno è lo stesso che lo si condanni. La tolleranza è anzi una forma di condanna più raffinata. Pierpaolo Pasolini, questo mi rappresenta. Io mi sento molto pasoliniano forse perché sto lì e ho l'aninetto d'avoli. Le cose cambiano. No, le cose sono già cambiate secondo me. Già con questo video, con questi spettacoli e questo progetto è importante che facciate i bravi, ma non quelli termazzoni. Ciao.